Siamo Michele Moschitz, mi occupo della pistola posteriore e sinistra. Se non iniziamo il mio lavoro nel pistola, ecco di controllare tutte le operazioni. Mi chiamo Michele Moschitz, mi occupo di pistola, e faccio i pistola. Mi chiamo Corrado Cardinali, sono il meccanico chief. E sto cercando di fare tutti i miei ragazzi. E sto responsabile per la pistola, per vedere se c'è un problema. E sto collegando con il pilota, se c'è un problema. Il pilota, il pilota, c'è circa 26 persone. Quindi, per 26 persone lavorando all'unico e realizzate tutto in 2.5, 2.2, come abbiamo già fatto, è un grande effort per tutti. È un'altra cosa. La principale è la gara, come si chiama il pilota, come si chiama il pilota. Il pilota, come si chiama il pilota, non ha un pilota che prende il pilota, un pilota, un pilota che prende il pilota, e poi abbiamo un pilota che prende il pilota, un pilota che prende il pilota, un pilota che prende il pilota. È il coordinatore di molti cose, in un po' di seconda. Il pilota è un pilota che prende il pilota, un pilota che prende il pilota che prende il pilota. In questo modo, siamo limitati nel pilota che prende il pilota. In realtà, siamo limitati per la condizione del pilota. È particolare difficile per le braccia del pilota e di mano. Il pilota è molto difficile per il pilota, per il pilota sono 20 pilota, perché tutti sono più tardi. Ma l'abbiamo fatto di inverno una volta in maniera. hanno fatto centri di pratiche. Sono come una famiglia e ogni volta che vengono in un'auto dobbiamo dare un'altra mano. I know che hanno fatto il loro lavoro perché le amo motore raci ma anche mi piace fare bene. Quando abbiamo fatto un buon risultato, tutti stanno chiedendo l'altro, e è come un'unica bambina. Al prossimo. E' molto belle, molto bene. Molto di lavoro. Ricordate il primo lavoro che è lavorare su questo avranno. E' un'altro esclavore della rarca, che sono gli altri, persone che sono i i기, che sono i animali. Per ciò che si sono davvero i giocatori, se avrete qualcuno la loro sottotitolo. E' capta da la nostra attrazione che abbiamo abbiamo la mejor persona non ciò? Se spessi con il modo che ciò? quindi facciamo questo. Il più importante per un pit stop è per me, come driver, non provo a provare. Non per panicare e solo essere più semplice e precisi. Un pit stop è una balanza tra continente e absolute speedo. Non è bene per us to do pit stops in 2.5 secondi se il prossimo è 10 secondi, perché se un driver è stoppingo 3 volte durante un Grand Prix, tutti i nostri, tutti i nostri.